ma si ma se non mi ricordo male faceva anche i campionati italiani e comunque si guarda che taglio che hai fatto ma la più bella da lì ho provato di lì ma no sì e beh sempre bello qua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eh sì. Ecco, sbagliato di nuovo. Zio, che nervi. Non si passa di qua. Ma adesso cosa facciamo? Sì. Quattro ora!